Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia dei Dividendi. Come sempre sono Lorenzo e, giunti a metà mese, è il momento di fare il riepilogo del portafoglio e vedere quali sono stati i movimenti eseguiti negli ultimi 30 giorni. Per chi non me conoscesse, sono Lorenzo e nel mio canale YouTube mostro qual è il mio percorso verso la libertà finanziaria a tema che ho ampiamente trattato nel mio romanzo finanziario Penso Nato 50 Anni. Se non lo sapete potete trovarlo su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. Ma andiamo quindi a vedere subito come si è mosso il mio patrimonio nell'ultimo mese. Allora possiamo vedere che, sospinto ancora una volta da borse particolarmente positive, c'è stato un ultimo dentino positivo dopo che in gennaio c'era stato una lieve, un lieve calo. Quindi un febbraio molto molto positivo e possiamo vedere infatti la crescita molto buona ma quello che va al di là dell'andamento mensile che insomma può essere comunque altalenante è vedere come negli ultimi otto anni quasi in questo grafico il capitale sia comunque gradatamente aumentato in particolare possiamo vedere come comunque da giugno 2013 ad oggi sia più che raddoppiato. Quindi insomma tra alti e bassi perché sappiamo che i mercati sono imprevedibili e come possiamo vedere ad esempio a febbraio-marzo dell'anno scorso c'era stato un bel inciampo comunque nel lungo periodo ci sia una crescita. Di sicuro i mercati azionari che stanno crescendo a un ritmo sostenuto negli ultimi dieci anni hanno dato una mano veramente molto importante per far questo però come sempre ricordiamo che ci vuole comunque una pianificazione anche a lungo termine per poter ottenere risultati. Poi come sempre io dico non ho la becchetta magica altrimenti il grafico sarebbe sicuramente ancora più impennato però ce la metto tutta. Mi piace poi condividere con voi le mie opinioni e le mie operazioni perché in questa bellissima community riesco anch'io a mia volta a crescere anche grazie alle vostre segnalazioni. Ma andiamo quindi a vedere la composizione delle asset class che compongono il mio portafoglio e poi gli ultimi movimenti degli ultimi 30 giorni. Però prima di partire come sempre un bel like a questo video mi supporterete ormai la community sta crescendo a un ritmo veramente sostenuto siamo più di 2000 se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche per avere una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video. Ma partiamo! Allora possiamo vedere com'era la composizione del mio portafoglio nel mese scorso quindi 30 giorni fa. Allora in particolare possiamo vedere come l'azionario pesava per un 68% e l'azionario un 24,5% con una percentuale di certificate attorno al 7%. Possiamo vedere in questo momento c'è stata una live di crescita della quota di azionario che è passato al 67% contro il 68,5% i certificate sono rimasti più o meno costanti e l'obbligazionario è passato dal 24,5% al 26% perché questo nonostante siano aumentati di valore le azioni ho in realtà inserito un'obbligazione che andremo a vedere alla fine del video e vi spiegherò anche il motivo di questo nuovo acquisto. Allora spacchettando invece il mio patrimonio complessivo che va al di là di quello che abbiamo visto in precedenza che ricomprendono ETF, azioni, obbligazioni singole ma anche i certificates come ricordo sempre ho anche una grande quota di investimento assicurativo che ho ampiamente trattato in un video apposito e fondo pensione che anch'esso ho trattato in un video apposito. l'assicurativo come ho spiegato tempo fa ma lo ricordo comunque ha l'obiettivo sicuramente di stabilizzare il portafoglio ma anche quello tra qualche anno di potermi aiutare a distinguere anticipatamente il mio mutuo e quindi puoi creare ulteriore liquidità da investire poi sui mercati. Allora andiamo a vedere quindi la scomposizione del portafoglio al 16 di febbraio quindi un mesetto fa che vedeva il fondo pensione al 9,6 l'assicurativo al 22,8 certificates 4,3 azioni 34 ETF fondi 29,22 e 9 obbligazioni 2,6 liquidità a 3,7 Allora le liquidità nonostante possiamo dire rimanga costante solitamente nel tempo sta gradatamente scendendo a livello percentuale perché stanno salendo un pochino tutte le altre asset class in realtà negli ultimi 30 giorni ho utilizzato un po' di liquidità per fare degli acquisti e infatti da un 3,7 siamo passati a un 3,1 in percentuale l'assicurativo è passato dal 22,8 al 22,2 il fondo pensione anch'esso in diminuzione dal 9,8 al 9,3 i certificates in realtà sono aumentati non perché abbia fatto 9 acquisti ma perché sono cresciuti di valore quindi da 4,3 al 4,4 il mondo azionario dal 34,1 al 33,9 sostanzialmente stabile etf fondi da 22,9 a 22,6 e le obbligazioni invece da 2,6 a 4,5 quindi forte aumento del peso delle singole obbligazioni quindi andiamo a vedere quali sono stati i movimenti nel mio portafoglio degli ultimi 30 giorni allora possiamo vedere come durante la fine del mese di febbraio abbia venduto ASTM avevo fatto proprio un video apposta per spiegare cosa succede ASTM è oggetto di UPA quindi dovrebbe essere acquistato talmente dal gruppo Gavio e delistata dalla borsa a un prezzo proprio di 25,6 al momento quindi io ho colto l'attimo ho venduto ASTM proprio a 25,6 le avevo in carico a circa 10 euro l'una quindi buon gain tra l'altro titolo dentro al PIR quindi esenzione dalla tassazione sul capital gain e al suo posto ho deciso di comprare con un utilizzo di una parte di quanto rinvenuto della vendita di 200 azioni ASTM un po' di Raiway 300 azioni a 4,835 e un po' di Acea una utility 100 azioni a 16,58 allora come sempre io non riesco mai a zeccare ovviamente il momento di minimo perfetto Raiway dopo l'acquisto è sceso è sceso anche sotto appena sotto i 4,5 mi sono un po' morso le mani per aver anticipato l'acquisto però amen in questi giorni poi Raiway in realtà è anche risalita Acea anch'essa è scesa appena dopo l'acquisto ma anche lei comunque adesso quota più di 17 euro insomma poi lo ricordo sempre contano pochi movimenti a breve termine quello che mi interessa è il lungo termine e i dividendi che possono staccare queste azioni ma attenzione cosa è successo il PIR ha bisogno per rimanere conformi e quindi per poter continuare a godere dell'esenzione dalle tasse sui capital gain e sui dividendi bisogna rispettare determinate regole cosa ho fatto? Io ho venduto a STM un controvalore di circa 5.000 euro e ho detto compro un po' alla volta altre azioni per diciamo reinvestire i 5.000 euro che dovevano essere investiti poi mi è venuto un dubbio ho scritto a Directa Trading che gestisce il mio PIR e mi hanno risposto in realtà che devo investire tutto il controvalore della vendita di STM in un unico colpo quindi mi sono detto caspita ho comunque 90 giorni di tempo investire oltre 5.000 euro in una singola azione di medio-piccole dimensioni sinceramente non me la sento sono andato quindi a investire in una obbligazione sempre messa da una medio-piccola e si tratta di un'obbligazione Mittel allora non è proprio il massimo come dico sempre quindi non copiatevi se volete prendete spunto da quello che faccio per fare delle analisi personali allora si tratta secondo me di un emittente abbastanza solido e possiamo vedere anche durante marzo insomma l'obbligazione è scesa ma è scesa attorno a 96 come quotazione quindi insomma non è scesa tantissimo la durata è breve perché scade a luglio 2023 quindi poi avrò tutto il tempo per andare a decidere eventualmente come reinvestire la scadenza nel frattempo nulla toglie che potrei magari disinvestire una parte di questa obbligazione se se ne creasse la occasione sul mercato per andare a investire in altre azioni magari con un disinvestimento parziale allora l'acquisto è stato fatto a 102 e mezzo adesso è salita attorno a 103 però insomma anche qui ogni giorno cambia la quotazione chiaramente se volete potete anche prendere l'ISIN per vedere che tipo di obbligazione è questa pagata 102 e mezzo scade tra due anni e qualche mese però stacca un'ottima cedola del 3,75 che viene distribuita su base semestrale insomma dai un parcheggio di liquidità che non è non è malaccio tutto sommato questo diciamo è quanto un piccolo non sono proprio diciamo non mi sono lanciato in un acquisto spericolato stavolta sono rimasto abbastanza tranquillo visto anche i mercati che insomma sono abbastanza tirati detto questo aspetto i vostri commenti in merito alla composizione del mio portafoglio se volete chiedetemi quello che volete e condividete anche magari le vostre operazioni degli ultimi 30 giorni così c'è uno scambio di idee e uno scambio di opinioni come sempre mi trovate anche sugli altri canali social bene dai vi auguro un buon sabato ci vediamo domani un caro saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao ciao